Ciao Cacciondi! Negli ultimi mesi ho fatto tanti momenti di riflessione con personaggi famosi come Luca Mora, Michele Cremonesi, Scande Rudy Bandiera, Andrea Poltronieri, Nicola Franceschini, Stefano Lolli, con Accordero, miei colleghi di Semplice, l'ho fatto con degli anziani al bar, anche se gli anziani al bar erano molto carichi ma non ce li avevano con me. Vi ci tengo veramente a precisare che non sono stato molestato, io non ho molestato loro, non ho ricevuto proposte indecenti da parte loro e metto le mani avanti perché magari fra una trentina d'anni salterà fuori no perché Julio ha provato, ci ha provato, mi ha toccato, però adesso che ci penso? E se Belen Rodriguez mi avessi molestato? Non mi sarei mica lamentato, ne l'avrei denunciato, anzi. Onde evitare questi spiacevoli episodi? Faccio questo video così fra trent'anni che sarà il 2047, non ci saranno dei problemi, tutti contenti, tutti tranquilli, tutti amici come prima, anzi saluto tutti, un bacione, un abbraccio, ciao cacioni se lo lavan!